Buon pomeriggio Valentina, da qualche ora qualche maglietta dell'Italia in più, qualche bandiera si sta vedendo, si inizia a riscaldare per questo clima partita, però effettivamente non ci sarà la possibilità di vedere la partita sui maxischermi allestiti dal comune. Qui siamo in Piazza San Carlo, è forse ancora troppo crudo il ricordo della tragedia di Piazza San Carlo del giugno 2017 con due morti e 1500 feriti, al di là di tutti i problemi che ci sono in più per la pandemia. C'è qualche schermo organizzato da qualche privato, ad esempio in un piazzale di un supermercato nella zona nord di Torino e anche in quell'occasione le forze dell'ordine vigileranno in maniera molto controllata. Noi abbiamo sentito però dal punto di vista del piano che è stato organizzato nei giorni scorsi, soprattutto per il post partita, il prefetto di Torino in collaborazione naturalmente con il comune, quindi con la sindaca a Pendino. Ascoltiamo il prefetto. È stata una scelta concordata in Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, abbiamo voluto evitare i maxischermi. Ovviamente abbiamo più o meno indicazioni di dove ci saranno a livello privato maxischermi e anche lì appunto ci saranno dei presidi delle forze dell'ordine rinforzati. Soprattutto per evitare assembramenti. Sì, il tema è proprio questo. Comunque siamo in un momento di zona bianca eccetera, ma l'evento va fatto nel rispetto delle regole di distanziamento e uso di mascherina.